kill eravamo in 12 e poi mi è andata e buttata la registrazione buttata la registrazione vabbè vabbè ok raga comunque in questo video andremo a parlare della season 7 e a scusarci perché non registriamo fortnite da tanto ma siamo tornati meglio di prima abbiamo imparato come registrare da playstation finalmente finalmente allora direi che possiamo cercare di giocarci questa partita top nella season 7 sarà natalizia però diciamo che da qui a qui ci sarà una parte di ghiaccio allora oggi andremo ad atterrare all'andere tagli peccato l'area di quella partita mi è rimasto smadò perché praticamente avevo fatto una bella partita 5 kill 12 eravamo se ho per fare la sesta kill è rimasto con 30 di vita l'altro però non mi ha salvato la registrazione cioè io non ci credo veramente non ci credo comunque 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 cerchiamo di fare una buona partita cercando di rifare queste 5 kill mi ha portato fortuna passatempi pomposi ecco c'è un tipo con le armi devo stare fermo aspetto che questo se ne va se ne va hello my friend io vabbè 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 it's me mig allora allora raga cerchiamo di stavolta andiamo a passatempi pomposi vediamo se riesco a fare la stessa partita c'è un botto di gente ho preso un pompa ne ho sciolti prima tre poi due con il cecchino quindi buono cioè che devo dire ok vai andiamo in singolo va non vi do l'ora di avere quella skin da 30 euro perché la shopperemo e perché quei mille vbac che ti da o li utilizziamo per comprare una skin verde che non sarebbe malissimo oppure oppure li possiamo utilizzare per un piccone verde così da fare la piccone challenge vabbè direi che dovremmo cambiare non possiamo andare a passatempi pomposi ovviamente andiamo a parla dai spawn vai cercherò di attirare il più basso possibile anche per fare kill e raga possiamo registrare la playstation cioè finalmente finalmente cioè veramente sono contentissimo sono contentissimo allora noi facciamo più partite che possiamo poi quando si interrompe la registrazione salviamo e la mandiamo sul canale che vi dobbiamo dire allora intanto dire che un pompa non fa schifo questo è forte eh questo è forte la cifra ma la cifra questo è forte abessio questo è piccipero ma sciolto raga ma sciolto che te lo dire allora peccato avevo fatto una bella partita prima e poi fumata la registrazione ciao cioè raga che cavolo che cavolo sono le 15 e 52 cavolo calaccio cotto allora raga comunque abbiamo Manny fase 3 abbiamo fatto 30.000 P in due settimane più o meno sì 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 allora mio fratello intanto che gioco gioco dal telefono tipo GTA nella vita reale cioè non è nella vita reale avete capito allora se compriamo quel piccone piccone verde al posto di una skin verde possiamo fare la piccone challenge se compriamo la skin possiamo fare la skin challenge vabbè passa tempi pomposi ho finalmente beh 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 magari faccio una bella partita anche questa volta allora l'ultima volta però avevo DJ Yonder eh eh differenze sì allora comunque questa in questa scelta ci va bene con tutto cioè io l'adoro la adoro poi è veramente figo no vabbè tre tipi buono quattro cinque a posto FBI open up vabbè 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 vi vabbè io non lo so cioè solo qui faccio kill la torretta è illegale la torretta è illegale anche questa volta a passatempi pomposi ho fatto un po' di kill cioè raga ho il mio posto migliore perché sono partito con 2 kill prima 5 kill oppure boh cioè cioè ho kill e non mi sorprendo per 2 kill perché 2 kill sono facile a farlo però comunque so kill che nell'altra partita non sempre faccio oh che è successo ok adesso li atterriamo a passatempi pomposi cioè questo punto non vedo l'ora di shoppare quel pacchetto non vedo l'ora non vedo l'ora non vedo l'ora di shoppare quel pacchetto non vedo l'ora allora c'è il 56 la registrazione è partita a 47 9 minuti ci sta arriviamo a 15 poi spegniamo che dite? 10 minuti arriviamo tipo a E3 a E2 e poi spegniamo ok le syrinx questa volta no andiamo al parco fascismo va? Iama 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 bello Iama che vi devo dire raga? cerchiamo di fare meglio cerchiamo veramente di fare meglio allora quanta E? 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 E la madonna più gente di pinnacoli ma la madonna bella ma che è mai impestata eccala me lo caia oh guarda guarda che leccio che? e allora so storpio io no gaga so storpio io e si che so storpio io sto storpissimo e e vabbè adesso questo muore da un altro vediamo 3 2 0 vado no no non muore non muore questo non muore questo addio tutte che fottute eh c'è un tipo però eh shut the fuck lo sapevo è questo da chi ci muore? da questo vado se ci muore da questo eh si è questo da chi ci muore dai io se non ci muore me ne vado tanto sono 12 minuti di registrazione cavolo dai questo c'è di memoria che ha fatto nuca fino a mo c'era sotto eh tutti in questa casa ai 62 spegniamo la registrazione ai 16 ai 62 spegniamo ma è un omorice brutto cane brutto cane infame per te solo il salame eccolo dai è morice oddio è questo da chi ci muore c'è chi nato vai dai dai io voglio vedere chi ci muore morice 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 madonna quanto ben di dio eccolo vai è questo da chi ci muore 6 e 0 1 cioè 4 e 0 1 questo sta laggando tantissimo cambia 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 giocatore non posso eccolo quante monti abbiamo visto fino ad adesso raga ma eh appunto te stavo a chiamare può bastare ma solo 4 un attimo 4 e 0 2 ok raga tra un po' chiudiamo la registrazione tra un po' si auto chiuderà perché 15 minuti di registrazione poi non si può più registrare quindi già faccio la intro perché prevedo eh I B guys niente no no lo sapevo niente serio andiamo dai lerci prima non 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 Grazie.